Siamo all'interno della Cattedrale dell'Immagine a Firenze con noi Giulia Perni e tutti i protagonisti per la presentazione della Traviata. Passione musica nel cuore di Firenze inizierà ogni giovedì alle 19.30, alle 21.30, dal 4 aprile, questo grande viaggio nell'arte, nella lirica, nella tecnologia. Dottoressa Perni, ci presenti il progetto. Buongiorno, quest'anno da aprile a settembre sarà possibile gustarsi la versione scenica, semiscenica e immersiva della Traviata di Giuseppe Verdi. Dopo il successo dell'anno scorso, opera laboratori, sillabe, modigliani produzione insieme a Crossmedia e alla Cattedrale dell'Immagine hanno voluto replicare, anzi rafforzare questa iniziativa, iniziativa culturale, volta non soltanto al turista ma anche allo stesso pubblico fiorentino, alle scuole, allo spettatore, a chi si vuole gustare questa opera lirica conosciutissima, l'amore struggente dei due protagonisti. Dal 4 aprile ci saranno due possibilità, infatti abbiamo deciso di regalare al pubblico due spettacoli, alle 19.30 e alle 21.30, in modo tale che sia possibile a più persone partecipare. Un'ora, un'ora di musica, un'ora di lirica, di arte, in un luogo, un'architettura così straordinaria. Sarà possibile gustare la storia della traviata attraverso delle video installazioni create appositamente dallo staff di Crossmedia insieme al regista Nicola Fanucchi. La direzione artistica di Mario Minicagli, i musicisti fanno parte dell'ensemble modigliani, un cast di alto livello e con costumi realizzati appositamente per questa versione. Lo spettatore sarà condotto e introdotto nell'opera lirica attraverso le parole di un narratore che in tre sezioni racconterà e accompagnerà lo spettatore nell'opera lirica che è molto più complessa ma che appunto per essere più vicine, avvicinarsi di più allo spettatore deve anche essere più, deve essere semplificata. Quindi una sfida, in realtà una sfida è già stata confermata questa sfida ma una voglia di portare la musica, l'arte sempre più vicino al nostro pubblico. Grazie, grazie alla dottoressa Perni. Adesso noi andiamo a sentire gli altri protagonisti menzionati. Ricordo che la produzione è a cura di opera e laboratori insieme a Sillabe e Editore, Modigliani Produzione e Crossmedia. Ai nostri microfoni Mario Minicagli, direttore artistico di Musica e Musica. Ci ritroviamo direttore oggi per qualcosa di veramente speciale. modernità e grande tradizione che trovano un punto di sintesi in questo lavoro dedicato alla cattedrale dell'immagine qui a Firenze. Diciamo che dopo l'esperienza positiva, stra positiva, dello scorso anno abbiamo deciso di replicare raddoppiando addirittura le rappresentazioni di questo format, un format che ci ha entusiasmato. sin dall'inizio abbiamo fatto un lavoro veramente raffinato con il regista, con Nicola Fanucchi, per selezionare un'ora abbondante di musica tratta da questa meravigliosa opera. Quando poi ci siamo trovati a doverla rappresentare all'interno di questo spazio, chiaramente la connessione con l'immersività della digitalizzazione dell'immagine è stata tutt'uno. è un'opera che appunto si avverrà della collaborazione di artisti assolutamente di chiara fama e di un ensemble strumentale che renderà ancora più fruibile, più veritiera appunto la rappresentazione stessa che ricordiamo è una ampia selezione in forma scenica con costumi, quindi con tutto ciò che si addice ad un'opera lirica e nella parte diciamo così non rappresentata è integrata appunto dal racconto in doppia lingua sia in italiano che in inglese di una voce narrante che accompagnerà appunto il pubblico all'interno del libretto, all'interno della trama dell'opera per ciò che il pubblico non ascolta dato che è stata fatta ovviamente una selezione per poter affrontare questa situazione. Siamo con il regista Nicola Fanucchi, che spettacolo troveranno tutti gli spettatori qua alla Cattedrale delle Immagini? Ma io credo, lo dico io, ma è uno spettacolo bellissimo ma grazie soprattutto a Giuseppe Verdi intanto perché Traviata è un'opera meravigliosa, è un'opera per tutti, non è un'opera solo per esperti e di lirica per cui un po' anche il senso di questa operazione è quello e certo che quando ti mettono in mano un materiale così prezioso hai quasi paura di metterci le mani, di fare qualche rivisitazione, qualche taglio però crediamo di aver trovato il giusto equilibrio, ci sono ovviamente le parti più importanti, più conosciute dell'opera e soprattutto abbiamo voluto inserire l'opera, sempre logicamente mettendo al primo piano la musica di Giuseppe Verdi in questo contesto meraviglioso, queste immagini immersive della Cattedrale dell'Immagine che ci hanno aiutato anche a raccontare la storia di Violetta Valeri e di Alfredo questa storia di questi due giovani meravigliosa che ha a che fare con la nostra vita e con tutti noi credo che questa collocazione aiuti ancora di più a trovare un incontro, una vicinanza fra il pubblico e i cantanti che devo dire sono bravissimi la prima cosa che ho chiesto a Mario Mericali, al direttore artistico, di darmi dei cantanti di eccellenza perché questa è un'opera che non si può cantare male e devo dire che mi ha davvero accontentato sono molto contento, abbiamo fatto un lungo lungo studio per capire quali potessero essere le immagini più adatte più coerenti con la storia che raccontavamo, riteniamo di averle trovate, il pubblico sarà immerso dentro la scenografia quindi direi che non è un esperimento perché già l'anno scorso è andato molto bene ma è un viaggio emozionale all'interno di questa opera straordinaria Ai nostri microfoni Federico Dalgas Pandolfini, presidente di Cross Media Group un'altra grande sfida qui alla Cattedrale dell'Immagine a Firenze, presidente Sì, una sfida principalmente per portare un pubblico nuovo a essere introdotto nel mondo della lirica abbiamo trovato questa collaborazione fantastica con questo gruppo che ha creato Opere Laboratori Fiorentini siamo molto contenti perché abbiamo messo a disposizione quelle che sono le nostre competenze quindi registiche, creative nel mondo del digitale e dell'immersivo unite quindi alla lirica, a un'opera lirica e crediamo che possa essere onestamente una novità non solo da un punto di vista scenografico ma anche da un punto di vista narrativo e di linguaggio quindi pensiamo che possa interessare anche un pubblico non avvezzo a entrare nei teatri tradizionali non solo da un'opera lirica 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 Grazie a tutti.